dalla bandierina palmieri la messa direttamente in mezzo gherardi con i pugni c'è bernardini viene però fischiato un fallo la palla rimane lì recuperate però c'è bernardini palmieri arrivano sovrapposizione bernardini bella palla messa in mezzo e la sfera poi rientra quindi che rossa sul sinistro si gira che è rossa raddoppiato adesso da chiossi c'è agnelli però in appoggio palla messa in mezzo buona per di angelis gherardi si ostacolano fabiani e agnelli il tiro bozzi era bene per brugnoli può allargare il gioco a suo volto per agnelli agnelli a spazio può puntare il fondo agnelli corre sulla fascia agnelli palla messa in mezzo bene gherardi anticipa cerigliano altro buon cross di agnelli invece bosio pascali di testa lussignolo occhiere occhiere prova il tiro occhiere deviato anzino non è stato deviato chiede cerigliano un provvedimento si parte già rientra brugnoli sul sinistro può provare il tiro brugnoli palla che termina un'altra punto a piacentini che rosso servito cerigliano può puntarlo adesso c'è de angelis sul secondo pallo che chiede palla calcia rimane lì de angelis e si gira gherardi con i piedi arriva anche brugnoli chiuso quella che si impenna e poi piacentini sta per keros, keros può puntare a pares, keros, keros è più veloce di pares chiuso però da due giocatori ancora keros va via sul fondo keros finisce a terra calcio di rigore grande azione sulla linea di fondo di keros parte brugnoli brugnoli col brivido 1 a 0 fan full al 41esimo gol di stefano brugnoli cerigliano arriva sul fondo cerigliano bella la palla che passa pascali tiro deviato brugnoli poi gherardi ma c'è fuori gioco un po' palmieri tu nel suo esposito brugnoli può cercare la conclusione da lì brugnoli gherardi in due tempi assenna già due cirigliano cheras cheras può trovare col sinistro keros rientra ancora cheras piacentini mura col corpo rimane anche a terra piacentini l'arrivi la mette in mezzo non ci arriva nessuno cambia direttamente in area chero spalla bella messa in mezzo a cercare pascali sponda brugnoli non riesce ad avere il pallone a chiere spazza bocchiere riesce a prolungare per colonnetti si allarga bosio sulla destra si allarga bosio cizza e si imbola su bosio cambia il battitore vanna stasera adesso con la tradittoria di uscire Pascali la spizza di testa rimane lì Fabiani immorato da due giocatori da Real Caletina cronetto in pressione Bernandini Bernandini troppo bene De Angelis De Angelis la difende Brugnoli palla messa in mezzo Keros la stoppa Keros alcia male col destro Fabiani rinvia lontano ma non troppo la difesa del Calepina Anastasiano non fuori gioco servito subito Brugnoli dentro l'area Keros ancora col sinistro piacentini di Cizza parte esposito Cizza centrale comodo spazio Lussignoli occhiere ancora con l'esterno trovato proprio Lussignoli e Pascali da terra Pascali mani siamo entrati nell'ultimo minuto di chiopo prima del recupero c'è il regalo si gira mette la falla in mezzo di Brugnoli finisce qui però chiedevano i collegiatori città città